Ciao a tutti e ben ritrovati. Anche questo mese ho piacere di dare un'occhiata insieme a voi all'ultimo numero uscito di Cartamodelli Magazine, il numero di novembre. Già dalla copertina e dalle pagine del sommario, come sempre, ci possiamo rendere conto di quelle che saranno le proposte presenti all'interno del numero, sia come modelli, sia per quanto riguarda i colori e le fantasie che incontreremo. Partiamo subito con la prima rubrica, quella dedicata al modello del mese, che per il numero di novembre vede protagonista questa gonna ampia ed arricciata, in questa bella tonalità di giallo, direi quasi un becco d'oca come punta di giallo. Una gonna, vediamo, con vita alta e cinturino, che cade poi ampia in una lunghezza midi, direi, quindi a metà polpaccio. Questa tipologia di gonna, così ampia e lunga, è particolarmente in voga in questa stagione e ce ne rendiamo conto, dando un'occhiata anche ai figurini tratti dalle passerelle, e le lunghezze appunto sono solitamente la metà del polpaccio, oppure anche la lunghezza fino alla caviglia, anch'essa molto bella. E questa tipologia di gonna presenta sempre dei colori comunque particolarmente sgargianti, o comunque fantasie fiorite e insomma abbastanza vistose. Diciamo che in un outfit è il pezzo forte, comunque il pezzo più vistoso. Lo vediamo infatti anche dalle proposte alternative che il giornale ci dà. Entriamo poi nel vivo con i servizi, il primo dei quali si intitola Stile e Colore, e questo servizio è dedicato a una serie di accostamenti possibili tra i classici bianco e nero, con quello che è un po' il colore principe per questa stagione autunno-inverno, ovvero il giallo. Il giallo nelle sue varie sfumature e declinazioni, in particolare giallo-senape. Partiamo con questa gonna, una gonna dal tessuto sportivo e anche dalla lacciatura, vedete, ha l'allacciatura, lo vediamo come sempre un pochino meglio nel figurino perché sul bianco se no non si nota, vedete la gonna ha un taglio sul davanti, un'allacciatura e una tipologia di tasca un po' stile jeans ed è una gonna dritta con lo spacco, lo spacco dietro, nel centro dietro e anche questa tipologia di gonna ha una lunghezza midi, quindi arriva sotto il ginocchio, direi appena sopra il polpaccio. La gonna è abbinata a un giubbottino con l'allacciatura sul davanti, un giubbottino che qui viene presentato con le maniche ricciate, ma in realtà il giubbino ha comunque la manica lunga adatta appunto all'autunno e questi pezzi sono combinati con la camicia, questa camicia gialla, una camicia dalla linea piuttosto sportiva e maschile, vi cerco di inquadrare meglio il figurino, ecco vedete che presenta addirittura anche il taschino applicato, proprio come le camicie un pochino più casual, diciamo che la nota di eleganza è data non solo dall'abbinamento ma proprio anche dal tessuto scelto, questo giallo ha puoi, piccoli puoi delicati e in più vi faccio notare la particolarità del colletto, il colletto è decorato con degli strass, insomma delle perline e così forse lo potete cogliere meglio, la cosa carina secondo me sarebbe in alternativa andare ad utilizzare addirittura un tessuto diverso per creare il colletto, quindi un tessuto magari a fantasia naturalmente in linea con i colori appunto della camicia però questo motivo magari a contrasto sarebbe bello e darebbe sicuramente un tocco diverso al capo. Nella pagina successiva abbiamo poi un giaccone ampio, un cappotto per meglio dire, il giornale ci segnala che si tratta di un pezzo cucitura facile, in effetti per essere un cappotto è sicuramente un capo non di eccessiva difficoltà di realizzazione perché vediamo innanzitutto l'assenza del collo, quindi diciamo che già togliamo uno degli elementi di difficoltà appunto delle giacche, dei giacconi, il cappotto si lega, si annoda con una cintura un po' in modalità vestaglia e vediamo che le tasche sono delle tasche a patta applicate, quindi anche questa una tipologia di tasca tra le meno complesse. Nella pagina a fianco vediamo che il cappotto è diciamo accompagnato a una blusa, una blusa semplice dalle maniche ampie e a tre quarti e ha una gonna, una gonna dritta, questa volta la lunghezza è al ginocchio e la vita è alta e la particolarità di questa gonna che vi mostro magari al solito meglio nel figurino perché dalla fotografia non si capisce, vedete la gonna è una gonna teli, presenta dei tagli e questa tipologia di gonna che in effetti viene definita gonna slim è proprio una gonna che slancia, grazie proprio a questi questi giochi di tagli e alla vita alta, slancia qualunque tipo di figura, quindi diciamo che è un modello veramente portabilissimo per tutte, indipendentemente da quello che è la nostra fisicità. Giriamo pagina e troviamo invece un capo più sportivo come un giaccone, una giacca parca, quindi un parca corto e nell'altra pagina scusate invece, vediamo questa camicia a righe, anche in questo caso una riga bianca accostata al giallo in abbinamento a un giacchino nero con profilature bianche che quindi creano un gioco di contrasti e sottolineano quelle che sono le particolarità di questo giacchino, appunto le doppie tasche, un giacchino che mi sentirei di definire in stile Chanel, proprio per la linea smilza, la presenza del taschino, l'allacciatura sul davanti e la mancanza del collo. Nel frattempo qui vedete un elemento estraneo, un intruso, è arrivato Platone sul tavolo ma così oggi ci vuole tenere compagnia anche lui. E poi le ultime due proposte del servizio sono questo bel pantalone ampio, sappiamo che i pantaloni laghi sono un must della stagione e nell'altra pagina troviamo invece un abito chemisier, anche in questo numero sappiamo che Carta Modelli Magazine ci propone tantissimi chemisier ma in effetti non solo sono abiti di tendenza ma sono veramente vestiti estremamente portabili, sono sicuramente abiti strategici anche proprio per la vita quotidiana. Cambiamo servizio e arriviamo al nuovo casual in cui vediamo una serie di capi sportivi o comunque comodi che vengono resi particolari da inserti in pelliccia sintetica. La pelliccia vera per fortuna non è più di moda ed è stata soppiantata da quella sintetica che io onestamente non amo in ogni caso, è proprio un elemento della moda che non mi piace, vera assolutamente no ma nemmeno artificiale dico la verità, però sicuramente originale il modo in cui viene proposta dal giornale, vediamo che per esempio questa felpa bianca oversize viene diciamo decorata con due anelli, due giri di pelliccia sintetica che vanno a richiamare il colore del pantalone, un pantalone dalla linea sportiva dritta a sigaretta, così come questo cappotto vestaglia in questa bella fantasia viene impreziosito con dei polsi in pelliccia sintetica alti che in qualche modo tolgono forse un po' quell'effetto vestaglia che la giacca potrebbe avere andandola a sicuramente impreziosire rendendola un capo molto stravagante, originale ma chic al tempo stesso. E poi vediamo un giaccone, anzi o meglio un gilet perché è una giacca priva di maniche con cappuccio interamente in pelliccia sintetica abbinato a questo bel paio di jeans molto particolari, sono dei jeans dalla linea appunto sportiva e comoda, un pochino corti con risvolto e la particolarità sta nell'allacciatura che vi faccio vedere più da vicino, vedete oltre all'allacciatura praticamente nei passanti del pantalone gira una sorta di cinturina culiss, ecco ve la mostro anche qui nel figurino, quindi un paio di jeans un po' diversi dal solito. E nell'ultima proposta vediamo invece una camicia bianca molto molto semplice, molto lineare che viene diciamo arricchita da questa tasca di pelo molto vistosa, molto particolare come effetto che viene diciamo poi un pochino smorzato nella sua stravaganza dall'accostamento con questo bel pantalone capri, vedete corto a metà polpaccio che sia per linea molto elegante, molto pulita sia per colore appunto va a bilanciare l'effetto sicuramente vistoso del top. abbiamo poi la proposta di un paio di tailleur, il primo presenta una giacchina corta che si allaccia con un unico bottone, vediamo anche il rever del collo è piuttosto piccolo quindi è una giacchina smilza abbinata a questo paio di pantaloni corti alla caviglia tendenzialmente stretti in fondo con un piccolo risvolto. Il completo invece della pagina successiva presenta un pantalone completamente diverso quindi di nuovo un pantalone ampio un po' come quello visto nella nella nel servizio precedente comodo e morbido abbinato a una giacca che anche in questo caso si chiude con un unico bottone ma vedete ha una lunghezza e una linea più morbida rispetto alla giacchina precedente quindi una lunghezza maggiore e anche una linea più comoda. In questo caso abbiamo il cartamodello anche della camicina cioè qui viene presentata come blusa ma in realtà si tratta di una una camicina allacciata vedete nel modello nella fotografia si intravede appena comunque è un bel modello di camicia con colla alla coreana e allacciatura e la cosa bella di questi due taior a mio avviso è che si possono anche eventualmente spezzare cioè io non vedrei male questo tipo di pantalone abbinato al giacchino corto del completo precedente proprio per conferire diciamo un effetto più diciamo slim alla parte superiore del corpo e poi lasciare sotto il pantalone ampio viceversa vedrei bene il pantalone così un pochino più aderente un pochino più stretto abbinato alla giacca più lunga quindi alla giacca che arriva a coprire magari i fianchi questa quantomeno è la mia idea insomma sarebbero belli visti anche spezzati e nulla ci vieta effettivamente di realizzare un elemento cioè spezzare i tagliere insomma quindi realizzarli entrambi e poi portarli magari anche mescolati abbiamo poi il servizio intitolato l'abito perfetto è il servizio un po dedicato agli outfit no in cui il giornale ogni volta ci mostra l'accostamento degli abiti dei capi dei cartamodelli insomma presenti nel giornale con anche gli accessori e in questo caso ci vengono proposti anche dei tessuti alternativi sia per materiale sia per fantasia partiamo con un abito a manica lunga probabilmente l'abito più più semplice più sportivo anche se vogliamo del del servizio è un abito appunto semplice dritto con manica lunga e in fondo un effetto volant aperto sul davanti e l'abito di fianco invece è un abito sicuramente più più elegante è un tubino vero e proprio con pens lungo lungo la vita ai fianchi e una particolarità anche del vestito in questo caso è dato proprio dal tessuto e si tratta di un taftà dall'effetto stropicciato quindi tutti questi movimenti che vediamo nel vestito sono proprio dati dall'effetto stropicciato del tessuto che sicuramente conferisce anche maggiore eleganza e maggiore effetto all'abito. Abbiamo poi un abito monospalla che si caratterizza per una ricciatura diciamo quindi una sorta di annodatura per meglio dire centrale e dall'altra parte anche questo è un toni eleganti adatto alla sera si tratta anche in questo caso di un tubino con scolla a cuore trattandosi però naturalmente di una proposta invernale all'abito è stata aggiunta una parte superiore in in vual di seta che dona trasparenza però allo stesso tempo va a coprire le spalle e a rendere appunto l'abito più adeguato all'autunno. Arriviamo poi al servizio dedicato alle cosiddette taglie forti che si intitola sempre chic in cui vediamo una serie di proposte casual per appunto in qualche modo enfatizzare la figura e snellire la linea dove serve mantenendo però la comodità abbiamo per esempio questo pantalone un pantalone corto sopra la caviglia in tessuto di principe di galles un classico che viene sempre proposto ma che quest'anno è particolarmente in auge e il pantalone così un pochino sportivo viene accostato a questa blusa una blusa allacciata sul davanti ve la mostro magari meglio qui ecco vedete che c'è tutta un'allacciatura e la particolarità della blusa che ha un'andatura appunto piuttosto semplice è data dalla manica che si chiude con un volant alto che diciamo appunto va così a creare un effetto di movimento nella manica e i due pezzi sono abbinati a un giaccone sportivo vediamo che si allaccia con la con la zip e ha le tasche applicate un giaccone sicuramente adatto per il periodo autunnale abbiamo poi questo capo particolare si tratta di un impermeabile smanicato quindi vediamo che quasi una sorta di gile lungo che ha però le caratteristiche tipiche del del gile scusate dell'impermeabile come la doppia l'acciatura la cintura in vita i revers e questo capo viene accostato a un pantalone un po il classico pantalone dritto alla caviglia bellissimo anche questo vestito abbinato a un soprabito che è in questo caso invece proprio un impermeabile vediamo la manica lunga dalla linea però un pochino alternativa vedete come le maniche si arricciano e sono legate da questa specie di fiocco di nastro l'abito di questo servizio ve lo mostro meglio di qua che forse si nota meglio ha la particolarità di essere annodato al punto vita e ricorda un po un'altra proposta per le taglie forti non mi ricordo se del numero precedente o di forse due numeri fa comunque si trattava di un abito di jeans che presentava sempre questa annodatura in quel caso però l'abito era aperto era una sorta di chemisee qui invece si tratta di un abito chiuso e quindi magari dalla linea più più elegante passiamo poi al servizio per i bambini anche qui ritroviamo l'elemento della pelliccia sintetica in questo gilet per bambina abbinato a una gonna aperta sul davanti e a questa piccola blusa con annodatura da maschietto invece troviamo questo pantalone cargo quindi con i tasconi sportivi abbinato a una giacca nera come sempre non manca mai il servizio maglieria dedicato questa volta a un pullover con scolla v e la particolarità di una un traforo un lavoro di traforo sulla schiena e poi un altro pezzo un altro capo strategico è questo maxi cardigan questa giacca aperta particolarmente utile appunto soprattutto per i primi freddi autunnali come sempre il giornale si chiude con le spiegazioni devo poi dirvi una cosa relativa al numero precedente i pantaloni che avevamo visto in copertina e che andavano ad accompagnare quello che era il modello del mese sappiamo che non era presente nel giornale il cartamodello ma se vi interessasse ho visto nella pagina facebook del della rivista che c'è disponibilità da parte dell'editore a vostra richiesta di inviarvi il cartamodello quindi se tra voi c'era qualcuno appunto che si era innamorato di questo pantalone e desiderava realizzarlo può chiedere il cartamodello al solito indirizzo che vi indico anche per la richiesta dei dei numeri arretrati o proprio del numero stesso se non lo trovate in edicola e l'indirizzo è cartamodelli chiocciola roto 3 punto it io come sempre vi ringrazio per avermi seguita con cartamodelli magazine ci vedremo sicuramente il mese prossimo e noi speriamo di vederci prima insomma anche con altri video vi mando un bacione grazie a presto